Sono Giovanni Costantino, fondatore, presidente ed amministratore delegato di questo gruppo meraviglioso. L'interessante gruppo spesso ha delle buone idee e queste buone idee ci hanno accreditato, ci hanno fortemente accreditato a livello internazionale. Le attività di refit portano sul territorio mediamente tra le due e le 300 persone costantemente qui. Rotary è un'organizzazione mondiale di oltre 1.2 milioni di uomini e donne. Siamo questa sera onoratissimi di avervi qui con voi. Siamo noi altrettanto onorati di essere qua, più colleghi, perché il nostro territorio ha bisogno di investimenti, ha bisogno di coraggio, di un cambio di passo rispetto al passato e questo credo che in questo suo investimento, nella sua esperienza, questo sia avvenuto. Grazie.